Vediamo un po' l'obiettivo, perché ci sono anche dei falsi miti sulla A231 o il 231, come volete chiamarlo. Non è una legge, perché è stata data la delega al governo di farlo, come tanti altri decreti legislativi che sono tecnici e quindi è il governo che li porta avanti sul mandato del Parlamento. L'articolo 1 all'inizio dice disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Quindi stiamo parlando di una fonte del problema che è un reato e di un effetto che è una responsabilità di tipo amministrativo. Poi facciamo una piccola glossa dopo di carattere giuridico generale. Si applica a qualsiasi ente non pubblico, si applica agli illeciti a vantaggio dell'azienda, quindi ci deve essere qualche vantaggio dell'azienda. Poi che cosa vuol dire vantaggio dell'azienda è molto ampio e quindi c'è ovviamente una discrezionalità anche del giudice su questo. E poi i reati devono essere svolti da persone con poteri oppure sottoposte, perché è ovvio che se uno compie un reato e non ha nessun potere è difficile dimostrare che lo stia facendo a vantaggio dell'azienda in senso lato. Magari personalmente pensa di fare un vantaggio all'azienda. A che serve il 231? Serve a penalizzare l'azienda, cioè a dire azienda tu hai torto, devi pagare e non puoi mandare un caprio espiatorio. E questo si fa attraverso sanzioni di vario tipo che poi dopo esaminiamo. Ma serve anche in positivo a difendere l'azienda dagli amministratori o dipendenti colpevoli che pensano di fare del bene all'azienda attraverso un illecito, ma in realtà la stanno danneggiando. Stanno danneggiando la società, stanno danneggiando un terzo. Come si fa a difendere l'azienda? Applicando dei meccanismi di controllo che poi vedremo. Non è obbligatorio applicare il 231, infatti siccome si applica a tutti in teoria, nel senso che tutti dovrebbero farlo, ma con un dovrebbero che non è prescrittivo, di fatto lo fanno le aziende grosse, quelle che hanno effettivamente i rischi maggiori. Perché anche un'associazione non riconosciuta dovrebbe fare il suo modello di organizzazione e controllo. E poi per sfatare il mito non è solo per chi ha rapporti con la pubblica amministrazione, perché forse era nato così nel 2001, però poi dopo si è evoluto. All'inizio il decreto cita il principio di legalità. Vi dirò, quando l'ho letto io sono rimasto un po' sorpreso, perché ho detto, se è un principio di legalità che bisogno c'è di dirlo, vale, è generale, cioè è della Costituzione, è uno dei fondamenti del diritto romano, e quindi che abbiamo uno Stato di diritto si fonda sul principio di legalità. Però hanno voluto esplicitare, e quindi perché specificano la responsabilità amministrativa rispetto al reato. Il problema qual è? Il problema è quello della responsabilità penale. Secondo la Costituzione, nell'articolo 27, la responsabilità penale è personale, quindi di una persona fisica, non di una persona giuridica. Allora, con questo decreto in effetti si fa un passo verso una responsabilità di tipo penale anche nei confronti di una persona giuridica. È una forma derivata, adesso non è il luogo per discutere di temi dottrinali giuridici, però è una considerazione interessante, fa capire che non possiamo più andare avanti con teste di paglia e capri aspiatori, c'è una responsabilità collettiva. Dicevamo prima che i destinatari sono tutti gli enti, sono esclusi quelli pubblici, anche gli enti con funzione di rilievo costituzionale, quindi anche i sindacati e i partiti, e così via. Gli enti di piccole dimensioni sono semplificati nell'esecuzione. Poi i destinatari sono le posizioni apicali, ecco perché ci state voi qui, oppure le persone sottoposte a direzione o vigilanza di posizioni apicali, cioè gente esecutiva che immediatamente può prendere delle decisioni che vanno a vantaggio o a svantaggio di tutta l'azienda. Qual è la responsabilità dell'ente? Innanzitutto, come dicevamo prima, è per i reati commessi nel suo interesse e a suo vantaggio, non per un reato qualsiasi. Il problema, come diceva prima il Presidente, è che è un vantaggio apparente quello di fare qualcosa che mi porta a un beneficio ma nel contempo mi fa commettere un reato, perché c'è il rischio della sanzione che può essere molto superiore al vantaggio e questo è un ragionamento opportunista se volete. Poi c'è il ragionamento etico generale che il fine non giustifica i mezzi, quindi non posso fare qualcosa di illecito o di illegale per ottenere un vantaggio. Come fa l'azienda a esimersi dalla responsabilità se c'è stato un reato, se uno dei suoi dipendenti, anche apicali, un amministratore, ha commesso un reato, deve provare di aver adempiuto l'articolo 6. Poi il testo di tutto il decreto nel modello di organizzazione e controllo è riportato in tutte le parti essenziali e poi è disponibile, uno se lo può andare a leggere, ma qui lo semplifichiamo. Il meccanismo fondamentalmente deve dimostrare che c'è un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati, l'organismo di vigilanza e controllo è attivo, e qui ce l'abbiamo, quindi attivo, l'altro è inattivo perché è ammalato, ma è attivo nel suo ruolo e ho visto molta solerzia anche quando ho chiesto gli approfondimenti, e poi deve dimostrare che sono stati aggirati i meccanismi di controllo, cioè i meccanismi di controllo ci sono, ma non è che possono essere infallibili e inviolabili se uno dimostra che sono stati aggirati con qualche forma di truffa, è chiaro. Il problema è che adesso è l'azienda che deve dimostrare questo. Qualcuno discute se nella riforma del decreto 231 venga ribaltato l'onere della prova, e quindi se c'è il modello va bene, poi deve essere il pubblico ministero o chi per lui a dimostrare il contrario. Non risponde, ovviamente l'abbiamo detto prima, se chi ha commesso il reato lo ha fatto per interesse proprio di terzi, e questo è il caso più frequente, cioè un dipendente che commette un reato lo fa a proprio vantaggio normalmente, quindi in quel caso l'ente non è responsabile. Il dramma è che se non si trova il colpevole, non è imputabile, l'ente risponde. Questo è un tema molto delicato e quindi fa capire l'importanza del tracciamento delle attività. Poi più avanti ritorneremo su questo tema del tracciamento. Le posizioni apicali, come dicevo, siete voi, tutti quelli che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, anche di sedi secondarie, che esercitano anche di fatto gestione e controllo, dico anche di fatto perché poi quello che succede in alcune aziende è che vengono messi formalmente amministratori che sono ultracentenari e quindi che non rischiano niente, e poi invece quelli che agiscono sono altri. E no, attenzione, non funziona il trucco. Quindi le teste di legno prestanome sono corresponsabili, anche se sono ignoranti, persone che non c'entrano niente con l'attività, però poi quelli che hanno agito, anche se non avevano formalmente i poteri, vengono. Però bisogna provare nel caso delle teste di legno e prestanome che erano consapevoli e potevano fermare il colpevole. Questo è un punto delicato della Cassazione che un po' ha cambiato il profilo generale, quindi l'ignorante che sta a capo dell'azienda in effetti è un po' più tutelato da questa sentenza. Il modello di organizzazione, gestione e controllo, che è quello che abbiamo citato, è fondamentale se è stato adottato ed efficacemente attuato. L'ho messo in grassetto perché non basta aver fatto il pezzo di carta, ho compilato il modello e adesso sto tranquillo. E no, questo è, come ha detto il Presidente prima, è un processo continuo che si evolve e quindi deve essere attuato. E quindi richiede una verifica periodica e la modifica. È un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate, altrimenti non funziona se non ho l'uno e l'altro. Se io faccio un proclama e poi però non do nessuna sanzione, non funziona come ci accorgiamo in tante situazioni quotidiane, anche urbane. Può essere costruito a posteriori, cioè c'è stato un delitto, un reato, e poi quindi l'azienda è stata sanzionata? Sì, posso farlo e in qualche modo ho delle attenuanti, riduco il peso delle sanzioni. Perché questo? Perché al legislatore interessa risolvere il problema, non solo dare batoste alle aziende o chiudere aziende, perché vedremo che ci sono penalizzazioni abbastanza forti. L'organismo di vigilanza e controllo è fondamentale per non far accusare l'ente del reato. Quindi c'è un compito da parte di questo organismo di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza. Ha autonomi poteri di iniziativa e controllo, quindi è un organo in qualche modo esterno rispetto a tutto il resto, e prevede obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare. Quindi l'ente deve organizzare un sistema che permetta di contattare e vedremo che qui esiste. Negli enti di piccole dimensioni l'organismo in genere coincide con l'organo dirigente perché altrimenti sarebbe un costo troppo alto. Le sanzioni sono varie, non entriamo nel merito, però l'interdizione è la cosa più grave, a mio parere, perché significa bloccare l'attività. La pubblicazione della sentenza è un problema di carattere mediatico non banale e attenzione perché a distanza di anni si applicano anche se ci sono fusioni e scissioni dell'ente. Le tipologie di delitti, ci avviamo alla conclusione di questa prima analisi, sono inizialmente erano corruzione e concussione e poi la truffa in danno dello Stato e ente pubblico, quindi era rapporti con la pubblica amministrazione. Poi poco a poco, dal 2001, se ne sono aggiunti tanti altri che come vedete si arriva pure a temi come lo schiavismo che apparentemente non ci interessano, però in alcuni ambiti invece sì. Ho la mutilazione degli organi genitali femminili, che uno si chiede perché, però poi immagina che in Italia stanno nascendo tutta una serie di aziende di tipo islamico, per esempio, in cui hanno tradizioni di questo tipo e allora sì, bisogna difendersi anche da quello, così come... e poi le frodi informatiche di telecomunicazioni, che è quelle che oggi ci interesseranno di più. C'è una peculiarità che l'articolo 25 novii è duplicato, cioè ci sono due articoli 25 novii, che è un po' assurdo per una legge, ma è perché sono conseguenza di due leggi promulgate in date vicine, per cui quello che aveva messo il 25 novii non aveva avvisato che l'aveva già messo e quindi tutte e due pensavano ed è rimasta così, non l'hanno corretta. Sono l'induzione a mentire, la violazione del diritto d'autore, quindi come vedete si aggiungono anche temi abbastanza complessi.